ehi pirati scalmanati questa volta in compagnia di wikipedia 89 vi mostreremo una guida un po' differente dalle altre quella per collegare il vostro account xbox al nostro server discord in questo modo potrete usufruire delle chat con un notevole miglioramento dell'audio ma procediamo per step la prima cosa da fare è quella di accedere al nostro server discord da pc o mobile il link lo troverete in descrizione in ogni nostro video cliccandoci sopra darete l'autorizzazione all'ingresso sul nostro server ma se non avete un account sul discord ve ne farà creare uno come nickname potrete utilizzare la vostra gamertank o quella che preferite la registrazione sarà molto rapida adesso passiamo su xbox e dopo aver controllato che la console sia aggiornata andate sulla dashboard e su gruppi chat cliccate sulla nuova icona discord partecipa ad un canale vocale da qui potrete decidere di collegare il vostro account discord su xbox in diversi modi l'app potrebbe indirizzarvi direttamente sul browser di edge se non l'avete mai usato configuratelo rapidamente poi vi manderà sulla schermata login di discord da lì potrete inserire le vostre credenziali o registrarvi se non dovesse darvi in automatico la schermata di edge potrete raggiungerla da impostazioni account account social collegati dirigetevi su discord e proseguite sulla procedura guidata essa vi riporterà su edge sulla schermata login io sono molto pigro e quindi ho usato il codice qr direttamente da cellulare per collegare tutto come nello screen cliccate sulla vostra icona in basso a destra dopodiché scorrete il menu e cliccate su scansione codice qr in questo modo le credenziali verranno inserite automaticamente a destra precedentemente per accedere su xbox con discord dovevate utilizzare obbligatoriamente il vostro telefono da adesso invece vi basterà andare sul menu gruppi e chat e partecipare ad una chat vocale ricordatevi però di utilizzare il codice invito che troverete in descrizione in ogni video il nostro è comunque un canale pubblico e potrete trovarlo anche sulla ricerca dei canali discord con il nome di pirati scalmanati beh a questo punto mi viene da dire benvenuti sul nostro server da qui potrete decidere di utilizzare il nostro chat di gioco sfruttando le funzionalità di discord migliorando notevolmente il vostro audio con un filtro antirumore eccezionale siamo certi che xbox continuerà a migliorare questa funzionalità ma sappiate che da mobile o pc potrete accedere alla ricerca giocatori per unirvi ad una ciurma aprire un ticket per cercare un mentor partecipare ai nostri eventi settimanali e tanto altro ancora passate a trovarci in chat taverna per presentarvi e scambiare quattro chiacchieri insieme e perché no farci offrire anche un bel boccale di grog per qualsiasi dubbio scrivete pure nei commenti a presto pirati scalmanati di xbox vi aspettiamo sul nostro server grazie a tutti